Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Sono tornato oggi con alcuni aggiornamenti che riguarderanno il canale Prima però innanzitutto vorrei chiedervi scusa per l'assenza di video in questi giorni Ma praticamente sono stato impegnato in altre cose E poi ho detto sinceramente che ci sono alcuni momenti in cui non avevo per niente voglia Specialmente di giocare a Warcraft ma non perché Warcraft sia un gioco che mi abbia stufato effettivamente Però quando giochi praticamente sempre da solo in un gioco online Le due cose non è che vanno proprio e braccettano in maniera giusta E sto anche con un fottuto raffreddore che non mi fa parlare recentemente e non respiro A di là del fatto che giocare da solo è un po' pallosetto Appunto ho ripiegato su Overwatch che è un gioco che ultimamente mi sta infognando profondamente E un motivo in più per il quale ci gioco è che non gioco da solo ma gioco con altri amici che me l'appoggiano E che non sarebbero disposti a giocare a World of Warcraft perché magari è una tipologia di gioco più impegnativa Ci vuole più tempo e non tutti hanno il tempo da dedicare a un gioco come Warcraft Quindi devi farmare quest'area, fare ride, ci vuole tempo dai E quindi sto cercando di skillarmi un po' Overwatch piano piano con dei minuscoli miglioramenti Piano piano cercheremo di arrivare a un livello decente Magari più in là ci porterò anche qualche video spero Uno l'ho già portato ma col fatto che sono ancora praticamente ultra scarso In quel video ancora di più di adesso è stata più che altro tutta una sclerata E poi niente oltre a Overwatch praticamente è uscita la season nuova di Diablo Quindi sto farmando, tre argolette, ma non è che sto farmando ore e ore Cioè mi faccio la mia logatina, mezz'ora e un'ora, faccio 4 rift Metto a posto 4 cose e ho finito, ecco la mia farmata di Diablo Oh allora passiamo agli aggiornamenti che riguardano praticamente il canale ma più direttamente Warcraft sì Come sapete io collaboro con i ragazzi di Tormenta, vi lascio sempre il canale in descrizione in ogni video d'ora in poi Quindi seguite questa pagina su Facebook, la mia anche e il canale YouTube di Tormenta Perché praticamente come sapete il canale di Tormenta racchiude diversi YouTuber italiani Che trattano i contenuti di Blizzard in generale, quindi non solo Warcraft E praticamente d'ora in poi tutti i contenuti che riguardano Warcraft Li andrò a condividere là, quindi anche in normalissime gameplay Infatti ci ho già creato una playlist dove praticamente andrò a mettere tutti i miei gameplay Per non andare in tasare il canale e lasciarlo comunque ordinato Quindi è come se avessi uno specchio di spazietto personale all'interno del canale di Tormenta Oltre ai gameplay porterò anche video magari che riguardano guide oppure cose proprio più particolari Se riesco a parlare Come per esempio l'ultimo video che ho fatto che riguarda praticamente tutti i territori dell'Alleanza e dell'Orda Quello dell'Alleanza è già uscito, quindi mi raccomando andatelo a vedere Che ci ho messo una vita a farlo, fa un culo tipo 4 ore di editing E quello dell'Orda che praticamente mi ce ne vorranno anche di più Perché ci devo mettere anche il Death Knight Perché vabbè, anche se non è dell'Orda però Praticamente ho messo i Panda sull'Alleanza Di conseguenza devo mettere il DK sull'Orda Perché il DK ha una starting zone sua Nonostante magari lo fai umano, orco, quello che cazzo è Però c'è una starting zone sua E quindi praticamente andrò a condividere tutti i miei video là Questo non vuol dire che il canale, non lo so, sarà abbandonato E ci sono le palle di fieno che camminano sulla dashboard Però cercherò di portare i contenuti un po' più alternativi, tra virgolette Quindi cercherò di condividere tutti o quasi tutti i contenuti Blizzard su Tormenta In modo da, diciamo, dare molto più piede a questo fenomeno Questa corrente di Tormenta che spero vada benissimo E quindi magari stavo pensando tipo una cosa a caso, no? Stavo guardando casualmente l'ultimo vlog che avevo fatto Quello in cui parlo, magari la palestra, quello che faccio Avevo messo quei video, no? E volevo sapere se magari poteva interessarvi un eventuale vlog in palestra Cioè nel senso, magari mi metto lì, sfrutto il telefono nuovo Dio, la malattia! Sfrutto il telefono nuovo in modo da fare magari dei video più carini Foto, non so, comunque qualcosa che riguardi la mia vita giornalire Piuttosto che sempre gioco, gioco, gioco Le pubblicazioni su Tormenta, ovvio che non è un canale che spara video giorno, giorno, giorno Se avevo una determinata, diciamo, linea di programmazione Quindi magari se oggi ho condiviso io Di media condivido un altro youtuber, poi un altro youtuber, poi di nuovo io Ma ovviamente può capitare anche che condivido due video di fila io Oppure due video di fila un altro Però di media non, diciamo che segue una determinata programmazione Anche soprattutto nel fatto che esce un video magari ogni tot giorni In modo che la gente ha tempo di vedere tutto il video con calma Senza stare dietro a tanti video Perché inevitabilmente se tu carichi un video al giorno Di un quarto d'ora o dieci minuti Non tutti hanno il tempo e la voglia anche di mettersi lì Dieci minuti e un quarto d'ora tutti ciò ne guardare un video Lo so che molto probabilmente lo farete tutti Però compreso io Però non tutti ce l'hanno E niente, praticamente gli aggiornamenti principali erano questi Quindi se non vedete i video sul mio canale È perché li sto condividendo su Tormenta Quindi se non li vedete da qui a una settimana Magari non vedete i video gameplay È perché magari lo condiviso su Tormenta Quindi andatevelo a vedere là Importante E niente, un altro piccolissimo aggiornamento Che non riguarda il gioco Ma riguarda la mia posizione attuale Nel senso proprio posizione Che tipo questi giorni ha nevicato Non è che abbia nevicato tantissimo qua nelle Marche Però in certi punti ne ha fatta parecchia Qui da me no Però ne ha fatta abbastanza Da poter mandar via internet tipo per mezza giornata Proprio quella mezza giornata per il gisa In cui mi era venuta voglia di registrare un video Tipo quindi tre giorni fa una cosa del genere E in quella mezza giornata le mie palle sono esplose Dalla noia Perché mi sono, non so Mi sono finito tipo due cica di internet sul telefono Perché non sapevo che cazzo fare Proprio nerd che dici senza internet Non sapevo che cazzo fare, no? Esatto Perché uscì Non potevi uscì perché Ghiaccio ovunque Freddo atomico Meno 6, meno 5 Do cazzo vai E quindi niente Praticamente era una giornata perfetta per nerdare Ma senza internet Cosa cazzo nerd Io ho Minecraft al massimo Ma non ce l'ho Minecraft Non ci gioco Perché sennò mi spacco la testa Sua scrivania E finisce la storia E quindi niente Vi lascio così E mi raccomando quindi Andate a vedere Tormenta Perché è importantissimo Meraviglioso stupendo Andatelo a vedere Forza veloci E noi ci vediamo al prossimo video come sempre Ciao a tutti ragazzi